Cavalli agli ordini dello start. Partiti, quinta corsa, premio Rotary Club Paul, sulla distanza di metri 1600, riservato ad Anglo-Arabi di quattro anni e oltre. Lotta per il comando dove dall'esterno emerge Piccolo Diavolo con all'interno Quintilius che a sua volta ha lo steccato Orsinia. Reica, prima piegata dove Piccolo Diavolo prende il comando su Reica, terza posizione per Quintilius seguito da Ragno in scia con all'esterno reta opposta dove Piccolo Diavolo mantiene una lunghezza e mezzo di vantaggio su Reica mentre muove dall'esterno Nogales con il compagno di scuderia Orsinia inizi della piegata con Piccolo Diavolo avvicinato dal numero quattro Orsinio con in scia Reica all'esterno del quale viaggia Nogales Cavalli in piegata con Piccolo Diavolo che mantiene il comando mentre avanza Quintilius che in terza ruota si porta ridosso dei due di testa Cavalli addirittura con Quintilius che prova la progressione a centro pista all'interno del quale aumenta l'andatura Orsinio Orsinio che prova la fuga con l'attacco esterno di Quintilius che si ingamba a lotta fra Orsinio e Orsinio che la spunta su Quintilius Piccolo Diavolo ed il numero due Nogales si attende l'ordine ufficiale e quindi Gianluca Fresu che va in doppio con Orsinio che sembrava aver smarrito l'azione ai cento dal palo poi riprende e viene a siglare questo Rotary Club Poo Memorial Max D